Che in caso di forte temporale le pompe di sollevamento facciano i capricci, a Pescara è quasi normale e di solito transitorio. Ma quando dal fiume viene fuori un forte odore di carburante, allora è giusto verificare con cura, visto che di danni all'ambiente l'umanità ne ha già fatti abbastanza e proprio i fenomeni meteorologici così violenti che causano anche questi problemi sono il conto che siamo costretti a pagare, come dire il la cane che si morde la coda. L'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, nel pomeriggio di oggi ha effettuato dei controlli nell'acqua del fiume Pescara dopo il malfunzionamento agli impianti di sollevamento della rete fognaria dovuto proprio alla temporale. A segnalare l'odore di idrocarburi sono stati sia i diportisti in transito sul fiume che alcuni passanti. I tecnici dell'ARTA hanno prelevato l'acqua per il campionamento all'altezza del ponte Flaiano in corrispondenza di un rimessaggio di barche. È probabile che si tratti di uno sversamento di idrocarburi ma i risultati degli esami si avranno solo nei prossimi giorni.